Chi è? Aiuta! È Babbo Natale! Amico, ma che cosa ci fai qui? Beh, questo è il villaggio di Babbo Natale. Non dovresti essere qui. Sento che il negozio di giocattoli è in pericolo. Vecchio mio, tu non sai quanto! Capisco cosa vuoi dire. Resto tra i giocattoli! Scopino, viene via del lì! Resto! Norville, salva il tuo amico! Super Molide? Per la barba di Giove! Per di qua! Per di qua! Per di qua! Per di qua! Qua su! Se riesco a far funzionare il Carillon, qualcuno finirà per notarci! Dobbiamo trovare Saghi e Scooby! Credo di averlo aggiustato! Corri, Norville! Corri, Scoobart! Grrr! Brrr! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Skooby, perché suona la campana? Buon Natale! Sì, buon Natale! Din-do-dan-din-do-dan-din-do-dan-dan-dan-dan! Sì, buon Natale! 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 Sì, buon Natale!